Vedete, la guerra che noi stiamo vivendo è una guerra che non ha precedenti. Pino a oggi, quando c'è stata la guerra, è stata la guerra di una nazione contro un'altra nazione. E la guerra si svolgeva alla frontiera, al confine fra i due stati, c'era la guerra e il conflitto. Qual è la novità di questa nuova guerra dichiarata? Perché noi siamo in guerra, questo l'hanno dichiarato le autorità governative. Noi siamo in guerra. Naturalmente, quando si parla di guerra di questo genere, la guerra contro il terrorismo, è una guerra in cui non c'è più la frontiera. La trincea sta sulla porta di casa. Appena noi usciamo già ci troviamo nel pericolo dell'imponderabile. contro questo pericolo, noi non abbiamo le strutture pronte per poterci difendere da questo nuovo pericolo. Allora, noi vogliamo cominciare a orientare l'opinione pubblica su questo fatto. Cosa dobbiamo fare? Perchese?